Professor Carlo Tanzi, intanto una campagna elettorale in vista delle prossime regionali un po' particolare, sembra che lei stia un po' sulle montagne russe, un giorno di qua, un giorno con un altro alleato. Che sta succedendo dalle sue parti? No, semplicemente si è presentata questa occasione di poter supportare una persona per la quale ho grande stima, Giuseppe Conte, che stimola un punto di vista oltre che umano anche da un punto di vista professionale, in quanto ha gestito una pandemia simile a quella a una terza guerra mondiale, senza grandi clamori, con grande senso di responsabilità, con grande professionalità e quindi una occasione del genere, distaccandosi dal Movimento 5 Stelle che ho votato io nelle ultime elezioni nazionali e europee, si è distaccato da quel filone, mi ha deluso perché troppa protesta e poca proposta, invece Conte rappresenta la proposta della credibilità. Con grande senso di altruismo e di responsabilità avevo sposato la causa di De Magistris e poi è stata una delle più grandi deduzioni alla mia vita e ora insomma rimango aperto a qualunque tipo di soluzione, sempre nell'interesse della nostra regione, della nostra Calabria. Senti, però Conte ha deciso di stare con l'avventura, insomma questa scelta a lei le piace o no? Guardi, ancora di ufficiale non ho sentito niente, ma al di là di tutto a me quello che interessa non è la copertina del candidato presidente, no? A me interessa i contenuti, cioè la credibilità e la, come dire, la trasparenza dei candidati a consigliere. In Calabria vota un calabrese su due, come bisogna fare per intercettare quelli che sono indecisi e quelli che non vogliono sapere nulla di politica? Dando credibilità e coerenza. Io nel mio piccolo ho dimostrato con la protezione civile che in Calabria cambiare il sistema si può. Io ho fatto tante battaglie contro questo sistema, molte battaglie le ho vinte, poi il sistema a fine triennio del mio incarico mi ha presentato il conto, però io sono un calabrese con la testa dura e noi del nostro movimento continuiamo a lottare fino a oltranza.